La strada 3 La strada 3 La strada 4 La strada 4 La strada 4 La strada 4 Carabiniere, sacerdote e bambino dovevano proseguire a piedi. L'autista era rimasta in auto. L'aveva parcheggiata per bene a ridosso della costruzione dell'idrovora per sfruttare l'ombra dell'edificio tecnico e già che c'era, farsi un pisolino. Il vento di quel giorno spirava da sud, ma all'altezza dello stagno curvava in modo innaturale verso il mare. Quel bizzarro comportamento atmosferico li salvava dalle zanzare e dai miasmi dell'acqua densa. Murì, ricordò di aver tirato un sospiro di sollievo per quell'anomalia. Meglio un vento del purgatorio, si era detto, che la puzza dell'inferno. Il bambino aveva fatto strada trotterellando avanti sicuro e baldanzoso sulle gambette magre. Prima aveva saltellato in direzione della 22 longitudinale, la via parallela a rettifilo, una strada che corre un po' più all'interno, da sud a nord, dalla strada 3 ovest alla 26, tagliando a metà lo stagno di Luri. Forse il piccolo non si ricordava bene e tentava di orientarsi con la memoria. Poi però aveva girato deciso dentro una stradina di moda, sulla sinistra, e lì si era aperto il sipario.